Io ho fatto questo, ma se non ricordo più nulla. Ma chi potrà mai credermi? Chi può sapere come sono fatto dentro? E cos'è che sento urlare dal mio cervello? E come uccido? Non voglio! Devo! Non voglio! Devo! E poi, sento urlare una voce e io non la posso sentire! Aiuto! Non posso! Non posso! Non posso! Non posso! Non è colpa mia! Non è colpa mia! Non è colpa mia! Lo giuro! Ma chi sei? Ma cosa? Ma chi sei? Vuoi giudicarmi? Quando cammino per andare a perdere la decisione, che qualcuno mi sia seguendo, qualcuno mi sia seguendo! Ma io che posso fare? Che posso fare? Ma io sono solo, potrei questa maledizione, questa buona, questa morte, questa pena! Non è colpa mia! Non è colpa mia! Non è colpa mia! Non è colpa mia! E allora voglio schiattare, schiattare! Ma non posso! Non posso succhere! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti